Buongiorno a tutti, oggi abbiamo come ospite di Dietro le Quinte, Riccardo Esposito. Ecco, buongiorno Riccardo. Ciao. Come stai? Tutto bene, oggi meglio di ieri perché c'è un bellissimo sole, una giornata, poi sono metropatico, nel senso che al di là del discorso quarantena, chiuso in casa, quindi sai, tutte queste cose. Però se c'è il sole sto meglio. Dove sei adesso? Sei a Capri o a Napoli? Adesso sono a Capri perché abbiamo trascorso questo periodo un po' strano a Capri, insomma, che per quanto possa essere sempre meta di vileggiatura, località, turistica, si è rivelato un ottimo posto per passare questo mese, mesetto, due mesi. Riccardo, io userei un'altra modalità per presentarti e partirei da Google perché cercando il tuo nome su Google, al di là del fatto che viene fuori il tuo nome, la tua faccia, vedo sotto dei libri che hai scritto e Google ti definisce uno scrittore. Quindi, partendo da questo, come ti definiresti, chi sei e cosa fai? Guarda, quando Google ha tirato fuori questa definizione della mia persona, un po', sai, mi ha meravigliato, mi sono meravigliato di questa cosa. scrittore, perché, come dire, è un'etichetta pesante, insomma, se cerchi Umberto Eco c'è scrittore, se cerchi Riccardo Esposito c'è scrittore, quindi, sai, hai una responsabilità. Un farnello. Insomma, sai, è pesante, però sai che alla fine forse non è che ha tutti i tosti perché in effetti io scrivo, scrivo per lavoro, nel senso che la mia attività si definisce intorno appunto a quello che è l'uso delle parole per creare comunicazione. eh, comunicazione dove? Su siti web, su, ehm, sì, in realtà, sì. Non è che c'è. Intanto, intanto, intanto sto facendo vedere il tuo blog, che è My Social Web, molto conosciuto in Italia, eh, per, per quello che riguarda il blogging, no? Sì, appunto, ehm, io, eh, nel 99% della mia attività è legata alla creazione di, eh, contenuti per siti web, blog, e commerce, eh, tutto ciò che riguarda la presenza online. Mi sono specializzato in quello che è la creazione di, eh, piani editoriali, cioè la gestione dei contenuti, perché non basta scrivere bene, ma bisogna anche capire cosa scrivere in determinate occasioni. E poi, chiaramente, da qui a una, sono passato a una buona attività di, di formazione, ehm, ho, come dire, ho collaborazioni con diverse aziende per quanto riguarda la formazione, eh, sia interna che, eh, proprio vendita di, eh, corsi, eh, sia online che in, eh, in sede. Eh, ovviamente, eh, ovviamente, adesso tutto è stato, eh, spostato, spostato, sul digitale, sul video. Eh, però, insomma, più o meno questa è la mia attività. Ecco, io, tra l'altro, curiosando tra le varie iniziative che tu hai, hai nato e hai già realizzato, ho visto questo, l'ultimo libro che tu hai realizzato con Cristina Maccarone, Maccarone, eh, che è un, mi ha curiosito, il Duble Fass, ce ne vuoi parlare un attimo di questa, di questo libro? Sì, guarda, eh, in realtà, eh, ma questo è un libro che nasce da lontano, e in realtà la cosa interessante è che è un libro che nasce, eh, in un mercato di Palermo, insieme a Enrico Fiaccovio, e stavamo mangiando una cosa, un, 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 pesante, il pane, il pane, il pane cameusa, che è questo panino con le interiori a riborrite, insomma, è una cosa che poi mangi e digerisci dopo. Il giorno dopo. Sì, il giorno dopo, no, magari il giorno dopo, sì, eh, eh, però, insomma, mentre stavamo pranzando in questa, eh, eh, clima caratteristico e con cibi caratteristici, l'idea è quella di, eh, l'idea che è nata è, è praticamente quella di, eh, mettere a confronto quello che è il modo di scrivere di una persona che lavora con il web e che nasce con, eh, come dire, una mentalità votata alla scrittura online con, eh, il lavoro che fa una persona che ha un background completamente differente, che è quello del giornalista, che ha logiche differenti, eh, approccio differente a quello che è la comunicazione scritta, eh, ma non tanto in fin dei conti, perché comunque, eh, in entrambi i casi, eh, l'ideale sarebbe quello di creare una commissione, cioè che, il giornalista prende qualcosa dal blogger e dal webwriter e, ehm, il webwriter o il blogger prenda qualcosa dal giornalista, cioè, ci sono tante cose che, eh, noi che lavoriamo con la scrittura online dobbiamo conoscere del giornalismo. Certo. Per il giornalista che oggi si trova di fronte, cioè, oggi, ormai da diversi anni, ma sempre di più si trova di fronte alla sfida di dover, eh, fare che cosa? Scrivere dei contenuti per il web, su una pagina web. E, niente, l'idea di fare un dupe fast è nata, diciamo così, un po' da, eh, da quest'idea di andare un po' oltre, l'idea di fare il classico libro diviso in due parti, ok? Cioè, noi abbiamo, di solito, sempre prima parte e seconda parte, che vanno di, eh, come dire, in... In seguenza, in seguenza, ok? Quindi non è che c'è una prima di copertina, una quarta di copertina, c'è, capito cosa voglio dire? In entrambi i casi abbiamo, eh, due ladi della, eh, stessa medaglia. Della medaglia, quindi anche c'è un, il punto di vista del giornalista, il punto di vista del, del blogger e uno scambio di informazioni. Uno scambio paritario, l'unica differenza è che Cristina ha scritto più di me. Quindi, la cosa è che ci sono, tipo, una cinquantina di pagine in più, dal grado suo, però... Come è cambiato il tuo lavoro durante questo periodo di quarantena, di lockdown? Eh, ci vuoi dare un, un'idea di quello che può essere il cambiamento principale che ha subito la tua attività? Ah, guarda, eh, sì, allora, devo dire la verità, la mia attività, ehm, allora, se vogliamo parlare da un punto di vista è una cosa squisitamente, eh, economico, eh, se ci sono stati, eh, come dire, contaccorpi da un punto di vista del, del fatturato, eh, abbia, ho avuto molte richieste in più, ehm, proprio perché, comunque, e questo, di questo sono felice, ma non per, per me, eh, anche perché io, essendo Firenze, non è che posso, sai, ampliare all'infinito, nel senso che a un certo punto i miei clienti più di quello non posso fare, anche perché la mia attività di scrittura è legata al tempo, cioè, non posso, come dire, eh, certo, beh, qui poi subenterebbe un discorso diverso che riguarda, appunto, la necessità, la capacità di ampliarsi, di fare rete, però, per tanti motivi, è tutto molto difficile, soprattutto oggi, eh, quindi, di conseguenza, io, mantengo il mio ritmo, eh, poi, sto bene, insomma, eh, però mi rendo conto che, comunque, c'è tanta gente che, proprio, in questo periodo, decide di, eh, migliorarsi e migliorare il proprio lavoro, eh, la propria attività online, eh, decide di, che è arrivato il momento giusto per occuparsi del restaring del sito web, che, eh, bisogna investire su quelle che sono proprio le necessità delle persone di, eh, acquistare online, e per acquistare online c'è bisogno di, eh, contenuti, eh, di qualità quindi, diciamo che, eh, mh, per questo adesso non mi preoccupo, poi, eh, come dire, essendo Firenze sono abituato anche all'idea che le cose possono cambiare all'improvviso, va bene, è male che vada, me ne torno a capo e faccio il contadino, ehm, che non è male come idea. Poi, comunque, io, eh, faccio anche questa premessa, e comunque io, o sto a capo, o sto a Napoli, eh, in entrambi i casi non parliamo di centri nevragici dell'economia e della, eh, comunicazione, eh, di conseguenza, io, comunque, sono abituato a, eh, anche, come dire, per raggiungere un cliente, per parlare con un cliente, ha questa modalità, nel senso che se io, eh, abitasse a Milano, eh, sarebbe tutto molto diverso, mh, nel senso che potrei andare da tanti clienti, eh, adesso invece, mh, cioè, adesso no, ma neanche prima lo potevo fare. Di solito la primavera per me è sempre, è sempre stato un momento di, eh, grandi attività, di, eh, eventi, eh, formazione in aula, nel senso che, eh, di solito i due periodi fondamentali sono l'autunno e la primavera. Sì. Ok? Eh, avevo, eh, tante date segnate per la formazione in aula, purtroppo sono saltate. Sono saltate in parte in webinar o... Diciamo che gli appuntamenti più importanti sono, o sono stati rimandati, eh, per esempio il, il master di Studio Samo è stato rimandato a giugno, eh, e poi adesso vedremo a giugno come, come faremo. se si potrà fare. Spero di sì, ma c'è, poi un certo punto, poi vediamo come, divisi, scaglionati. A me c'è una cosa che mette ansia, ehm, go to meeting. Cioè, perché, per esempio, adesso io sto facendo questo, o, questa, questa chiacchierata, insomma, no? Io vedo te, tu vedi me, e ma quando io ho il confronto con una persona, io mi, non è che mi temporizzo, ormai queste cose le faccio da, da anni, però, eh, go to meeting, ti, ti lancio in una stanza vuota, cioè, 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 non hai rumori, non hai, senti... Non hai l'altro avanti. Sì, e però dall'altra parte ci stanno 50 persone che ti ascoltano. Ma non vedi, non senti. È un'ansia infinita, no? Sì, sì, posso, posso confermare questa cosa, l'ho provata anch'io, e, eh, la mancanza di un feedback anche visivo, incrociare gli sguardi, eh, vedere le persone anche come reagiscono proprio a livello di, eh, atteggiamenti visivi, no? E di comportamento è impagabile. Anche perché sai cosa, sai quando fermarti, sai quando riprendere il discorso. Sì, sai se, se, diciamo, c'è, c'è l'attenzione, se qualcuno è distratto, se, boh, non lo so, cioè, è molto un solipsismo infinito, cioè, ce la faccio più. Senti, ma, quindi fra tutte le cose che sono capitate in questo periodo, quella che accetti di meno da quello che capisco è il distanziamento sociale, quindi, no? Anche il fatto di... la mancanza di rapporti reali con le persone. È un'obietà, è quello che dico, però... Sì, allora, guarda, ti dico la verità, io sono un po'... Cioè, nonostante io, come tutte le persone in questo, a questo mondo, sai, mi piace andare con gli amici, fare la serata, andare a mangiare la pizza, boh, non so, qualunque di queste cose abbastanza scontate e normali. Io sono un po' misantropo di base, nel senso che io non ho grande voglia di avere, di stare in mezzo alla gente, di fare, di vedere. Non è che è cambiato molto nella mia vita professionale, personale, però c'è un concetto che è quello della possibilità. Cioè, e poi è l'idea stessa che tu una cosa non la puoi fare, che poi ti manca. Tornando però a noi, perché comunque ci occupiamo di digitale, di comunicazione, quale consiglio daresti a una persona, a un ragazzo, a un giovane che oggi come oggi decide di intraprendere la strada del blogging, del copywriting? Che cosa gli diresti? Io direi che comunque non esiste un momento migliore, nel senso che al di là dell'idea che sai che poi ci hanno anche, come dire, fatto entrare nella testa che dobbiamo restare a casa, che c'è tempo, abbiamo tanto tempo a disposizione, che io poi alla fine ho scoperto che più ti dicono che hai tempo e meno, cioè io al mondo non ho tempo di fare niente, cioè in questi giorni di lockdown, di stare chiusi in casa, no? Cioè, allora poi organizzavamo mille cose e facciamo il pane, e facciamo la ginnastica, e poi facciamo questo, e poi facciamo quello, e poi facciamo... Poi a un certo punto mi sono trovato a casa che veramente sembrava l'agenda di un... Io penso che nei momenti di crisi, di difficoltà, soprattutto queste crisi che non riguardano solo un settore, solo una città, solo un paese, solo una regione, o solo un territorio, o solo una classe sociale, ma che riguarda tutti, cioè è un terremoto mondiale, no? È un qualcosa che rivoluziona un po' tutto. Allora io mi rendo conto che ci sono tante forze che spingono per tornare alla normalità, no? Per dire, ritorniamo agli equilibri di prima. Noi dobbiamo far parte delle forze che dicono, ok, cambiamo un po' le carte in tavola, ok? Nel senso che in queste situazioni ci saranno tante esigenze diverse che nascono. Vuoi ad esempio quelle della salute, vuoi ad esempio quelle della sicurezza, dell'aspetto medico, ma anche l'alimentazione, ma anche il come gestire determinati tipi di lavori, ecco. Quindi questa cosa significa? Che in momenti di rivoluzione tu devi esserci, cioè tu devi sfruttare la possibilità di ritagliarti una tua nicchia, un tuo posto. Cioè se tutto quello che prima avevi adesso non c'è più, cerca di capire cose che puoi, come puoi, non dico riciclarti, perché non è tanto una questione di riciclarti, non è che quello che avevi prima non serve più e quindi lo butti. Però devi trovare nuove strade e il blog ti può aiutare a, come dire, a intercettare queste necessità, queste esigenze. Ecco, utilizzare un blog per costruirsi una propria nicchia, una propria identità lavorativa è uno dei suggerimenti che tu continui ancora adesso. Io so, ti conosco da diversi anni, l'hai sempre proposta come un mantra, oggi come oggi questa cosa è ancora più evidente. Sì, bisogna fare in fretta perché noi se andiamo su Google Trends vediamo che ci sono alcune ricerche fatte dalle persone su Google che hanno avuto dei picchi improvvisi enormi, tipo il più stupido, come tagliarsi i capelli in casa. Hai fatto un esempio che è calzante per quanto riguarda. Però hai capito? Vabbè, diciamo che ho ancora la base, però comunque ho optato per il taglio radicale già da diversi anni. Macchinetta, macchinetta, vai di macchinetta. Io vado di rasoio, quindi. Senza tanti, ogni tanto vado a barbiere per darmi un tono, diciamo, sai, per perdere un po' di tempo, per dire, vabbè, ogni tanto ci vado così. Però, capito, se io penso a come tagliarsi i capelli in casa, che non sarà un qualcosa che, vabbè, oggi è uscito fuori, poi domani, chissà. A questo punto sembra quasi che, soprattutto gli estetisti, tutto ciò che ha a che fare con l'estetica sia abbastanza limitato, diciamo, ne passerà di tempo prima che tutto possa tornare effettivamente alla normalità. Ma poi... Speriamo di no, perché ci sono anche tanti imprenditori che fanno, le estetiste che sono nel gruppo e che sentiranno questa intervista. Speriamo di no, speriamo che... Allora, io questo voglio dire che è sicuramente vero che ci saranno dei problemi, cioè, inutile negarlo. Però, quello che io voglio dire è che chi ha un tipo di attività del genere non deve pensare, ok, è finita, rimango così, con le mani in mano, fin quando non arriva la possibilità di riaprire come prima. Cioè, se non ci sarà un come prima, io devo capire come fare per... Sì, sì, certo. Ma è quello che molti stanno facendo, poi ci deve essere anche da parte, in questo caso, delle istituzioni, il fatto di divulgare dei protocolli, sapere esattamente che cosa deve essere fatto. In questi casi, conta anche molto l'incertezza e non sapere esattamente cosa fare per mettere in regola il proprio centro in base alle leggi, no? Quindi è un momento... Sai, che poi il problema è che spesso è che... Questa è una cosa... Vabbè, che prescinde un po' dal discorso del blogging. Quello che volevo dire io è che, ecco, se io ho un blog e ho un centro estetico, ho un parrucchiere, ho un barbiere, un negozio di barberia, queste cose qua, lavorare anche sul blog, sui social, comunque sulla creazione di contenuti capaci di rispondere alle esigenze delle persone in quel determinato momento. Ora, per esempio, se io ho un parrucchiere, un negozio di... un centro di parrucchiere e scopro che c'è un sacco di gente che cerca come tagliare i capelli in casa, io posso creare una serie di contenuti che spiegano come fare quella cosa. Ok? Questo cosa significa? Guadagnerò grazie a quei contenuti? No, nell'immediato no. Però tu crei fidelizzazione. Esatto. Però c'ero in quel momento e sono io che ti ho dato quelle indicazioni. Le persone apprezzano il fatto che tu in quel momento sei stato vicino e hai aiutato e non con le solite ragnie, i piani sterili, quelle cose che si vedono su Rai 1, le 2, ricominceremo, ci alzeremo di nuovo insieme. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Nel frattempo stai a casa. Sacrosanto. Va benissimo. Sì. Però un contenuto che invece ti dà la soluzione a un'esigenza pratica è una cosa reale e concreta. Fa la differenza. E questo con il blog lo puoi fare. Anche magari con dei videocorsi su come truccarsi a casa o come fare delle attività che in attesa di rifarle presso il tuo centro possono essere fatte in autonomia. Questo lo puoi declinare in tutto il business to customer. Nel senso che qualunque cosa, estetista, trucchi, negozi di abiti, qualunque cosa. Aspetti difficili anche da implementare. Perché non nascondiamocelo, lo sai bene anche tu, che è difficile iniziare con un blog a scrivere. Quindi sono attività complesse queste, no? Comunque richiedono impegno. Però hanno dalla loro il fatto che sono comunque azioni che hanno poi una validità, un'efficacia, perché toccano gli ambiti di ricerca delle persone. Sì, come dire, non dobbiamo aspettare che, nel momento in cui siamo in questa situazione di staglio, che per la modo del cielo io capisco perfetto, ho degli esempi vicinissimi a me. Lasciamo perdere che io non ho avuto problemi e che sto bene e che non soffro questa crisi. Ma ho degli esempi vicinissimi a me, perché io vivo su un'isola che si lega al turismo, non è un poro industriale che apre la fabbrica e andiamo avanti. Lo vedi con i tuoi occhi la crisi. Dove ci sono tantissime persone che adesso stanno in grandissima difficoltà con tutto che è un'isola ricca, che non esiste la povertà e va bene. Però c'è l'imprenditore che dice vabbè ma io non ho capito, vabbè ma io non lo so, vabbè ma chissà, vabbè allora non lavoriamo, e vabbè ma allora così. E poi c'è quello che dice si parla di delivery, noi stiamo studiando come fare. E adesso... Le consegne a domicilio magari per i ristoranti. Esatto. E nella comunicazione social parla di questo, parla del fatto c'è il delivery, c'è la possibilità di farlo, noi ci proveremo. E tutti quanti, cioè tutti quanti, comunque diciamo la fanbase, comunque ha apprezzato, ha accettato, e io sono sicuro che quando riusciranno a farlo otterranno dei risultati. Guadagneranno come prima? No. Io vorrei fare una cosa nel gruppo, poi vedremo se questo è possibile, ma vorrei fare magari una serata, un evento dove ci mettiamo un po' in discussione, magari... A cosa fate questa? In base alla tua disponibilità magari mettiamo in ballo una live proprio su questo argomento, su quello che può essere fatto a livello di contenuti e aprendo la discussione con direttamente gli imprenditori per sentire anche cosa ne pensano, quali sono i loro dubbi. Sicuramente si può fare. Io dico, sentiamoci via email così... Sì, certo. Ecco, io aggiungo anche il fatto che tutti noi siamo impegnati anche a fare in modo di aiutarci a vicenda e sostenerci a vicenda perché anche chi magari non ha la forza di reagire e questo può capitare, lo dico in primis anche a me, no? Anche domani potrei avere un momento come li ho avuti, non ti nascondo che in questi mesi come tutti abbiamo avuto momenti di sconforto, abbiamo vissuto momenti tragici per vari motivi, magari persone che hanno avuto qualche problema, però il fatto di sapere di avere intorno persone su cui appoggiare, con cui confrontarci, per me è stato veramente utile. Spero che questa cosa continui sempre di più e si faccia sempre di più rete tra di noi, no? A prescindere dalla nostra attività. Dobbiamo cercare di rimanere più... non è un andrà tutto bene, è proprio un invito attivo a collaborare sempre di più. Cioè, di investire sulle persone, sui rapporti, sulle relazioni. Vabbè, diciamo che sono cose che abbiamo sempre detto, che abbiamo detto, però adesso le dobbiamo fare. Adesso le dobbiamo fare, esatto. Allora lasciamoci con questa... no? Facciamo quello che dobbiamo fare. Relazioni e stare insieme, vicini. Riccardo, ancora tante grazie della tua presenza. Figuro, è stato un piacere. E a presto. Ciao.